Da oltre 3.000 anni, Reggio è riferimento e crocevia di storia e cultura nel Mediterraneo. Oggi la città e il suo territorio metropolitano si preparano ad accogliere visitatori di privilegiati circuiti croceristici. L'autorità di sistema portuale dello stretto incontra i responsabili di importanti compagnie di navigazione e traccia nuovi orizzonti per Reggio Calabria, nel suo porto. Sulla rotta dei tempi, Reggio si apre al futuro. Sulla rotta dei tempi, Reggio Dewey! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!